Sono veramente, veramente molto felice della reazione che hanno avuto gli under 20 dopo l'individuale. Avevo chiesto a loro un riscatto e avevo pretesto, tra virgolette, ma gli avevo detto che non lo sarei anche aspettato e veramente hanno tirato con il coltello tra i denti. Sono riusciti a guadagnarsi due medaglie molto, molto importanti e difficili perché abbiamo fatto un percorso intenso, importante e battuto delle squadre forti, veramente forti. Sicuramente l'assalto con l'Uzbekistan delle ragazze. Le ragazze lì sono state bravissime perché siamo partiti in svantaggio sul 30, abbiamo fatto l'ultimo giro, tutte le parziali positivi, abbiamo ribaltato un match che sembrava perso. I maschi, uguali, mi sono piaciuto molto con l'Uzbekistan, ma anche la reazione che hanno avuto per il bronzo. Eravamo partiti un pochino tesi, abbiamo capito come andava impostato e sono stati bravissimi a recuperare e mettere la medaglia al colmo. Abbiamo lavorato molto, sinceramente ho impostato molto il lavoro sui giovani e ho iniziato a far girare di più, dato più spazio anche ai primi anni cadetti, addirittura come era da Mocci. E' una squadra molto, molto giovane. Soltanto due atleti mi sembra usciranno dai cadetti, sono fatto male conti. Quindi il prossimo anno si ripresenteranno tutti, da Lentini, Mocci, Reale e Leonardo, e insomma saranno tutti in pedana anche il prossimo anno. E quello è un bel gruppo davvero. E quello che mi sento di dire è frutto sia la medaglia di oggi, è frutto davvero di un anno di lavoro con i collaboratori, quali ringrazio infinitamente Gigi Miracco e Sorinne Radoi, hanno fatto uno splendido lavoro con la squadra. Queste sono medaglie costruite, costruite durante l'anno. Abbiamo avuto attenzione, abbiamo fatto diversi elementi under 20, ho cercato di chiamare più spesso le nazionali, i giovani, gli elementi assoluti. E sono felice di aver raccolto i frutti. Lo devo dire in generale, più del 7, dal 7 e dall'8. Fino all'altro ieri ero un po' bacchiatello, diciamo dopo l'individuale. Ma ieri i ragazzi, gli under 20, gli under 17 ci hanno dato davvero il là, per un grande riscatto anche oggi. Quindi gli under 20, soprattutto hanno il merito, oggi hanno fatto una gara da 8, l'altra volta erano un po' insufficienti, quindi i cadetti molto bene, quindi diciamo un 7 e mezzo, un 7 e mezzo, quasi 8 se lo merita. Sono molto felice perché queste sono le medaglie costruite durante il corso dell'anno. Due squadre giovani, quindi in merito anche va ai referenti dell'under 20, Sorirra Doi e Gigi Miracco, ma grandi complimenti anche ai referenti dell'under 17, Fabio Di Lauro e Lania Bianco. Abbiamo lavorato durante l'anno, abbiamo cercato di fare molta attenzione, io ho cercato di dare molto spazio anche ai più giovani, iniziare a costruire più dal basso e questo ha avuto i suoi meriti e è veramente stato un lavoro di squadra.